Ehi la gente benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Clash of Clans In questo video vi mostro un trucchetto nuovo che sto utilizzando in questi giorni Io l'ho sperimentato, l'ho inventato io e sembra funzionare Per essere sempre pronti a donare qualche truppa gratis, senza aspettare tempo, ai vostri compagni di clan È forse un pochettino macchinoso, ve lo dico fin da subito Però credo che sia la soluzione migliore per essere sempre pronti a dare le truppe che servono ai propri compagni Appunto senza dover, per forza di cose, gemmare o aspettare 5 minuti Che non sono poi così tanti magari per un golem o per un mastino Anzi io approfitterei subito di questo momento in cui c'è un po' di roba da donare Per dare un mastino al mio compagno e qua che cosa serve? Una terremoto Qui invece serviva una furia Nel frattempo arriva un'altra richiesta Ok ad esempio qui E non ho avuto neanche il tempo di donare, perfetto Però almeno approfitto di questa piccola failata che c'è stata Per spiegarvi il perché di questa cosa, di questo trucchetto se così vogliamo chiamarlo In questo momento ho 836 truppe donate e 1123 truppe ricevute Solamente ieri questa cosa era molto molto peggio perché avevo le truppe donate dimezzate rispetto alle truppe ricevute Il problema non era tanto che io non volessi donare ai miei compagni come spesso è purtroppo Ma è che come in questo caso proprio non ci riuscivo Cioè vedevo la richiesta, io non avevo il mastino perché attacco solo con i miner praticamente Mettevo da destrare il mastino ma in quei 5 minuti c'era subito qualcuno, anzi in mezzo minuto che donava Per carità mi rendo conto che questo magari è un problema che c'è nei clan dove proprio si è attivissimi con le donazioni Però ad ogni modo questa cosa nasce da questo In casi più normali potrebbe essere semplicemente una soluzione per far ricevere subito dal proprio compagno le truppe che vuole senza farlo aspettare Che bello è quando richiedete le truppe c'è subito qualcuno lì pronto Tan 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 a donarvele vi arrivano in un secondo e potete subito attaccare Ecco ad esempio adesso ho anche questo dei giganti Io in un secondo ho i giganti pronti, una furia, tutto pronto e riesco a donare Ovviamente se io vado poi sul mio esercito ho comunque tutte le truppe per attaccare Quindi se io adesso volessi attaccare dopo aver appena donato posso comunque farlo Ma in realtà prima devo fare una cosa Ovvero andare qui e svuotare le truppe da donare What the fuck? Perché ho delle truppe da donare qui? In poche parole Io ho osservato il mio clan, i miei compagni e ho capito meno male quali sono le truppe che vengono richieste Magari nel vostro clan richiedono tutti quanti il golem E quindi è facilissimo basta tener conto dei golem Ma qui in realtà ognuno richiede una cosa diversa Quindi c'è chi chiede i guaritori, c'è chi chiede le mongolfiere, i giganti, i bocciatori, il mastino con la mongolfiera, i domatori Cioè l'ho visto un po' di tutti i colori Insomma ho preso le richieste più frequenti, le richieste più gettonate e le ho inserite all'interno di una di queste formazioni da addestramento Come potete vedere ho il mio walking bowler, il mio full miner e donazioni pronte, così l'ho chiamato Come potete vedere c'è qualsiasi cosa in questa barra Infatti è fondamentalmente un piccolo pacchetto di truppe da donare già pronto Quindi i giganti, le mongolfiere, i guaritori, un drago, due baby, uno sgherro, un golem, due streghe, un mastino e sei bocciatori Poi ci sono tre furie, una gelo, due veleno e una terremoto Questo mi sembra che per il momento sia il rapporto migliore da tenere Poi ovviamente quando mi rendo conto che una truppa non la dono mai La rimuovo e la sostituisco magari con una mongolfiera Che può tornare utile sempre Voi direte, sì vabbè, hai creato un esercito di truppe da donare Ma devi comunque addestrarle Ni, più o meno Infatti teoricamente le truppe vengono addestrate Ma in un momento in cui io non sono online Andiamo a fare l'attacco assieme adesso Quindi a metà della spiegazione praticamente È un video un po' strano questo qui E poi quando torniamo vi faccio vedere proprio quello che vado a fare ogni volta Salirò, salirò Fino a quando sarò solamente un puntino lontano Turi turi Una piccola canzoncina non guasta mai Ma piuttosto io ho cominciato a schippare circa un minuto fa Sono le 7 e 12 Vediamo quanto ci mette oggi il signorino Eeeh ragazzi Un TH10 Da quanto tempo che non ne trovavo uno Tra l'altro ci ha messo 3 minuti a trovare un villaggio Quindi va benissimo Allora l'unico problema è che ha il castore del clan interno E una inferno su singolo Bisogna stare un pochettino attenti Però qua vedo anche una difesa aerea in upgrade E quindi va giusto bene per la mia regina Allora partiamo subito Reginella E ok Andiamo con i guaritori Una bella mongo Che va tranquilla perché tanto c'è appunto la difesa aerea Andiamo a abbassare un pochettino il volume Allora avanziamo Con calma Con calma Ok Andiamo con la prima furia Andiamo con i primi due spaccamuro Ok Fanno un barco perfetto dove serviva a noi Andiamo adesso qua con il king Andiamo adesso qua con una bella velenozzola Ok Vai regina Spaccami a metà quel drago per favore Regina Spaccami il drago a metà per favore Ok Andiamo adesso con degli spaccamuro lì per supportare il re barbaro Abilità del king Regina che ha spazzato via praticamente tutto E quindi si crea un bel corridoietto qua Per i nostri carissimi miner Che stavolta accompagniamo anche con una mongolfiera Uno sgherro Ho buttato anche il mago perché sono un pollo Il mago serviva ad un'altra cosa Vabbè tanto ne parleremo poi in un altro video Andiamo quindi con una cura qua Il gran sorvegliante che mi sono scordato Insomma attacco Un po' a caso però Dai un th10 ce la possiamo fare Forza Ok Avanziamo Avanziamo con calma E Abilità del gran sorvegliante Andiamo adesso con Una cura No non serve ancora Non serve ancora Calma ferre Adesso ci può stare una furia qui Ok Ci può stare adesso una cura qua Ok Ci può stare adesso una cura lì Perché c'è la regina che rompe un pochettino le balle E abbiamo ancora una cura a disposizione Anche se teoricamente non serve Vabbè Mi sembra scontato che tristelliamo Praticamente Anzi doveva già esserlo all'inizio Quando ho visto th10 Che tristellavamo sicuro Però sapete Io riesco a failare anche con il th10 se voglio Ce la posso fare Chiedetemi Abilità della regina E con un minuto ancora a disposizione Tristelliamo il villaggio Ah no Cioè Sono tipo due cose qua inculatissime Quindi meno male che c'è ancora un minuto Puntualmente Quando io devo fare un video Dove spiego Una cosa un po' particolare Ci deve essere Un'eccezione Allora In questo caso Ho trovato un th10 Quindi i miei reali Almeno Quasi tutti Sono ancora freschi Freschi In una condizione D'attacco normale I miei reali sono morti Ok Quindi avere un esercito già pronto Non ha senso E quindi il doppio tap Che facevo qua ogni volta È sempre stato tra virgolette Sprecato Perché sì Avevo già un attacco pronto Ma tanto dovevo spettare i reali Quindi Quell'esercito Potevo anche addestrarlo Dopo Quindi metto Semplicemente Addestrare un esercito Di nuovo Per attaccare un'altra volta Ok In coda a questo esercito Metto l'esercito Delle truppe pronte Così facendo Io adesso Chiuderò In una situazione ipotetica In cui io ho fatto il mio attacco E quindi devo spettare i reali E quando tornerò online Avrò la situazione Che c'era all'inizio del video Quindi I reali freschi Freschi Pronti per attaccare Un esercito fresco Fresco pronto Per attaccare E delle truppe pronte Che riempiono La mia barra di donazioni Con un sacco di roba Da donare ai miei membri Del clan Fino adesso Ho sempre Quasi sempre Forse mi è capitata una volta Eh Avuto le truppe pronte A donare instant Come se facessi il tasto Eh Dona subito Adesso non c'è nessuna richiesta Però C'è il tasto Che vi ho lasciato magari Nella miniatura Dona subito Con quello potete gemmare Le truppe dei vostri compagni Insomma Questo qui era il mio Piccolo trucchetto Spero che possa esservi utile Provatelo Perché secondo me Ne vale la pena Sia per fare XP Sia per fare Comunque sia Un Una sorta di supporto Al clan Perché aiuterete veramente Tutti i membri Con delle Donazioni istantanee Non ci sarà più il Ti metto Da addestrare il mastino Voi sapete già Che il vostro compagno Vuole il mastino Voi l'avete già preparato L'unica piccola pecca Di questo trucchetto È che ovviamente Come ho fatto io All'inizio del video Prima di attaccare Dovete ricordarvi Ogni volta Di fare questo lavoro qua Ovvero andare a rimuovere Le truppe che Vabbè adesso sono Nella barra rossa Ma saranno qua in alto Pronte a donare Perché Se non fate questo Dopo l'attacco Vi troverete gli accampamenti Pieni Delle truppe Che avreste voluto donare È solo una piccola Questione d'abitudine Credetemi che non è nulla Di così Eclatante Nulla di esagerato Basta ricordarsi questo piccolo dettaglio Anche perché ricordate sempre Che Nel caso in cui voi Vi ricordiate di Eliminare le truppe Riotterrete le risorse Che avete speso Per addestrare le truppe E quindi fondamentalmente Non ci saranno Sprechi di risorse Con questo metodo Anzi Se avete un clan Livellato In teoria Anche se riuscite a donare Una truppa Una parte del costo Della truppa Vi torna indietro Non vorrei dire cavolate Ma infatti Dal livello 9 Dove i clan Rimborsano il 50% Del costo della truppa Quando essa viene donata Ad esempio Adesso il mio amico Ade Ha richiesto Un cuccio di drago E un drago Più una mongolfiera Perché sarebbero 5 spazi E una furia Sono tutte cose Che come potete vedere Vabbè adesso Non sono ancora pronte Perché io non ho ancora Sloggato Però se io fossi online Per un nuovo attacco Avrei già le truppe pronte E avrei donato già Quello che serviva Al mio amico Ecco vedete Questo qui invece Il tasto zona subito Che magari alcuni di voi Non hanno neanche ancora notato Perché è sempre lì Un pochettino Come dire Una funzione Che non usa nessuno Dai Cioè oddio Se volete spendere Delle gemme Per addestrare Delle truppe Ok però Spendete delle gemme In una maniera migliore Vi prego Vabbè ragazzi Insomma questo qui Era il mio piccolo trucchetto Che avevo in servo Per voi oggi Fatemi sapere Cosa ne pensate Provatelo ovviamente Prima di dire Una cavolata Perché io Obiettivamente Lo sto provando Da un po' di tempo E mi ci sto trovando Anche abbastanza bene Soprattutto perché Sto facendo Della bella XP Che serve per livellare Il mio carissimo account Che tra l'altro È passato a livello 161 Quindi ancora un livellino Se volete vedere i video Che vi ho sfornato Anche in questi ultimi tre giorni Li trovate qua Nelle schede Soprattutto è uscito Giusto ieri Un nuovo video Su una nuova serie Dove andiamo a costruire Le strutture di Clash of Clans Su Minecraft Una cosa un po' particolare Che però sta piacendo Sia a chi segue Minecraft Sia a chi segue Clash of Clans Insomma due piccioni Con una fava Per farla breve Da questa parte invece Vi lascio il video consigliato Con l'iconcina Per iscrivervi al canale E l'iconcina Per iscrivervi a Boxit Il mio canale di recensioni Grazie come sempre Per il supporto Noi ci vediamo domani alle 5 E ciao ragazzi